Shalom e tutti i miei amici italiani, che emanano la verità della Sacra Bibbia, il vero nome del figlio del Padre Celeste, non è Gesù Cristo, non è Gesù Cristo, e conoscere la suo vero nome, è necessario conoscere l'antica lingua ebraica, secondo la profezia Bibbia. Leggiamo il libro di Sofonia capitolo terzo versetto nove, poiché allora darai ai popoli un linguaggio puro, e finché tutti invochino il nome dell'Eterno, per servilo di comune accordo, la lingua pura parlato di, nel libro di Sofonia capitolo terzo versetto nove, è e la antica lingua l'ebraico. Quando si invocare il nome dell'insegnore nella antica lingua l'ebraico, e, Yahawa wa Yahawashai, Yahawa Dio wa Yahawashai, è Gesù Cristo. Grazie per l'ascolto, fino alla prossima lesione a Dio. Grazie per l'ascolto, fino alla prossima.